Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate nei video, oggi video sui libri speciale perché parlo di un libro che mi ha appassionata, mi ha segnata, mi ha formata, non è la prima volta che io ne parlo in questo canale, il libro è Fiori italiani di Luigi Meneghello. Allora, contestualizziamo un attimo, Luigi Meneghello conosciuto principalmente a livello nazionale per il suo libro I piccoli maestri, da cui poi è stato riadattato un film, in realtà la sua opera maestra viene considerata Libera Nossa Malo, che è un compendio di cultura veneta e soprattutto della provincia, soprattutto veneta, ma probabilmente estesa dalla provincia in generale, molto molto interessante. Però, secondo me, la sua vera chicca è Fiori italiani, un libro che è uscito nel 76 e che racconta delle tappe dell'educazione del protagonista, che non è altro che, in maniera autobiografica, lo stesso Meneghello. È un libro a cui io sono legata anche per ragioni familiari, io sono molto amica di uno dei pro-nipoti di Luigi Meneghello, ho la fortuna di possedere alcune copie originali e anche una sua penna, che naturalmente non uso mai, uso solo per cose importantissime, e quindi ho avuto modo di studiarlo un pochino più da vicino. Fiori italiani però non mi è stato introdotto da loro, mi è stato introdotto dal mio professore di francese Pio Serafina, qui manderò questo video, che ci ripeteva sempre una frase nel corso del biennio delle superiori in cui lui ci insegnava francese ma ci insegnava anche molta cultura veneta. E la frase era questa, uno studente nell'uditorio, insomma, di una lezione, si alza e dice al redatore questa frase Noi siamo vasi di fiori, voi dovreste coltivarci delicatamente, farci fiorire. La cosa che mi immagino è che questa frase sia stata pronunciata nella mia scuola, liceo Pigafetta, la stessa scuola di Luigi Meneghello, che tra le altre cose vede scritto oggi dopo anni fuori in un graffito, io non voglio promuovere i graffiti in nessuna forma, ma vede scritto fuori in un graffito non fioriamo più. Questa è una cosa che mi ha fatto molto riflettere, che ho fotografato e ogni volta che ci passo mi fa pensare tantissimo, ed è quello che mi fa veramente pensare a che cosa significa un libro che racconta dell'educazione italiana di una persona del Novecento portato a oggi. Beh, racconta che cosa dovrebbe essere l'educazione, quindi questo è un libro per tutti quelli che stanno facendo un percorso di educazione, ovvero forse quasi tutti noi, ma soprattutto per chi la fornisce questa educazione, quindi insegnanti, professori, maestri, formatori di qualsiasi genere. È un libro che secondo me dovrebbe essere la Bibbia, che tra l'altro mi dispiace perché fino a qualche anno fa non era neanche più in stampa, e adesso con il centenario, se non mi sbaglio, della nascita di Meneghello è di nuovo distribuito. È un libro veramente meraviglioso, che chiaramente ha alcuni riferimenti alla vicentinità, ma molti meno rispetto agli altri libri di Meneghello, ed è un libro internazionale, tant'è che Meneghello andò anche a studiare a Reading, scusate, a insegnare a Reading, e quindi non, in cui ha vissuto moltissimo, quindi certo non si può dire che è un libro legato solo a un certo territorio, tant'è che poi Meneghello va a studiare anche a Padova, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, libro meraviglioso, di cui non potrei mai parlare meglio, di cui sarebbe anche interessante leggere qualche estratto, ma che comunque in ogni caso vi straconsiglio, visto che adesso è disponibile, non so per quanto lo sarà, fatevi un favore, comprate questo libro, perché cambierà il vostro modo di vedere l'educazione, almeno lo spero. Questo è successo con me. Stop whining.